La Domenica di Carta è un appuntamento annuale del Ministero della Cultura in cui archivi e biblioteche sono straordinariamente aperti al pubblico anche nei giorni di festa. Noi, come ormai da dieci anni, lo celebriamo con una iniziativa a Pesaro che riguarda il dialogo tra arte e storia. Per quanto riguarda la storia e quindi documenti di archivio abbiamo deciso di focalizzarci sul rapporto uomo-donna in un momento conflittuale, se vogliamo, della storia umana, appunto quello immediatamente successivo all'unità d'Italia con i molti cambiamenti che si sono verificati a livello nazionale ma anche a livello locale e quindi delle contingenze storiche che hanno determinato un nuovo ruolo femminile e quindi anche una maggiore consapevolezza di sé. Ecco, si chiama uomo e si chiama donna, partiamo dal titolo di questo evento. Abbiamo pensato di prendere in prestito, di mutuare il titolo da un verso di Mariangela Gualtieri, proprio uomo e donna, i quali sono i protagonisti della storia. e Moreno Vani, con la mostra che sarà in corso appunto dal giorno 8 ottobre, vogliamo testimoniare la particolarità e la forza dell'arte che diviene testimonianza dei personaggi della storia e dei personaggi del presente. Ho cercato di portare questi miei lavori che si agganciano all'arte classica greca, soprattutto sono un amante della classicità e cerco di portarlo nel contemporaneo attraverso questo stile che risulta potente, con questi neri, con questo nero che è il colore secondo me più bello, quindi che accoglie la luce, l'abbraccia. Ci sono tutti questi lavori che sono fatti con della carta che vado a raccogliere in giro nei manifesti pubblicitari, dei supporti stradali, ci sono queste stratificazioni come se fossero delle bende su cui ci sono sotto le ferite emotive mie e di tutte le persone, quindi quello che mi ha fatto diventare quello che sono in questo momento serve a ricordarmi e a prendermi cura di me e attraverso queste persone che sono legate alla storia parlo di me. 8 ottobre, ore 18, presso l'archivio di Stato, via della Neviera, nel complesso dell'Agenzia delle Entrate. La mostra poi sarà aperta per tutto il mese negli orari di apertura dell'archivio, aspettiamo i visitatori, gli appassionati d'arte, di storia, ma anche tutti coloro che non pensano che l'archivio di Stato ci possano essere delle sorprese.